Ed eccoci qua, il momento è arrivato, qualcuno ha parlato, sono arrivate le prime motivazioni all'esonero, al licenziamento, all'allontanamento, scegliete voi il termine che vi piace di più, di Paolo Maldini e Federic Massara dall'AC Milan. Ha parlato Paolo Scaroni, ma non ha parlato per se stesso, perché se no chi se ne frega, ha parlato però per Redbird, ha parlato per Jerry Cardinale spiegando perché sono arrivati a questa conclusione, cioè quella di liberarsi di Maldini e continuare su un'altra strada, su questo modello americano. Era quello che temevo, le motivazioni più o meno me le aspettavo, sono molto collegate con tutto quello che è successo la scorsa stagione per cui non si trovavano intesa, quindi da quello che ha detto Scaroni non si parla di budget ma si parla di altro. E adesso ci arriviamo, però ovviamente ragazzi io poi vorrei ascoltare le parole di Paolo Maldini, si sta prendendo il suo tempo da quello che ho capito, è volato a Miami per evitare i giornalisti, per cercare di fare mente locale e sbollire magari la rabbia su tutto quello che sta succedendo, per poi spero dire la sua perché tutti quanti noi milanisti, almeno il 95% dei milanisti sta aspettando di sentire le parole di Maldini. Ma andiamo a ascoltare quello che ha detto Scaroni che poi quello che dice Redbird. Perché è avvenuta questa separazione? È tutto collegato all'anno scorso. L'anno scorso qual era stato il punto focale per cui non arrivava questo rinnovo di Paolo Maldini? Per il budget no, perché tanto Paolo Maldini poi ha firmato il contratto ma il budget non è arrivato, quindi queste erano le grandi colpe che io avevo dato a Maldini. Ti avevamo messo come garante per avere un budget, un milan che potesse andare a spendere sul mercato e invece la scorsa stagione abbiamo passato tutta l'estate a vedere obiettivi di mercato seguiti per due o tre mesi per poi dire non abbiamo i soldi per andarle a comprare, non possiamo affondare su questi colpi. E quindi ogni volta vedevamo colpi alla Botman, Renato Sanchez e compagnia bella a sfumare via. Quindi il fulco principale erano le mansioni di Maldini. Maldini voleva il potere, Maldini voleva comandare, Maldini voleva l'autonomia, la scelta, voleva scegliere lui. Alla fine Redbird e Jerry Cardinale che secondo me avrebbero voluto fare questo già dalla scorsa stagione ma trovandosi un Milan campione d'Italia, stavi iniziando adesso la tua avventura, non hanno voluto mettersi il popolo rosso nero contro, hanno aspettato un anno, hanno visto che i risultati non sono arrivati e hanno detto allora approfittiamolo in questo momento perché magari possiamo usare la scusa del mercato sbagliato, campionato che non è andato come volevamo, anche se poi tutti nel Milan parlavano di una stagione più che sufficiente, va bene adesso ci arriviamo anche a quello, per fare questo piano di mandarlo via. Perché Maldini voleva più potere e Redbird e Jerry Cardinale vogliono fare questa roba all'americana, questa roba di tante teste, tante teste a scegliere, non una sola al comando ma tante, un gruppo di lavoro in cui in questo momento ci sarà Furlani che prenderà anche la parte sportiva con Moncada e Stefano Pioli che avrà molto più voce in capitolo, così almeno non boccerà i suoi stessi giocatori perché almeno quest'anno secondo me molti parlano di mercato bocciato ma alla fine è stato Pioli in primis a bocciare molti giocatori che non hanno avuto la possibilità di giocare e quel poco che hanno fatto vedere secondo me non erano giocatori da bocciare. Ma questo è un altro discorso che non voglio aprire, sicuramente Pioli avrà più responsabilità, per me Pioli sarà il primo a pagare, io già ve lo dico perché adesso lo stanno mettendo, lo stanno glorificando, lo stanno mettendo lì sull'altare della gloria per dire guardate comunque Pioli ve l'abbiamo lasciato perché a molti tifosi Pioli piace, ma fidatevi che Pioli sarà il primo a saltare in tutta sta roba qua perché daranno la colpa a lui per poi mettere un manager che secondo loro sarà più utile per fare sta roba degli algoritmi quindi il motivo principale per cui è stato cacciato Maldini parte Redbird è che Maldini voleva avere un ruolo principale non era una questione di soldi, non era una questione di budget, il Milan è disposto ancora ad acquistare i giocatori quindi ci si aspetta un grande mercato, hanno detto che ci saranno dei grandi nomi, ha parlato di cessioni e qui mi sono entrati tutti quanti nel panico ma poi sta roba qua l'hanno rettificata proprio questa mattina dicendo non ho parlato di cessioni in generale perché appena ha detto per fare degli acquisti dovremmo fare delle cessioni tutti sono entrati nel panico del tipo adesso vanno a vendere un magnan e con quei soldi fanno mercato sembrerebbe di no, almeno a parole a quello che hanno detto, hanno rettificato le parole di Scaroni dicendo che le cessioni sono gli esuberi, cioè le cessioni che avevano già stabilito con Maldini e Massara cioè i vari orighi, Rebic, Balloture, giocatori che comunque non fanno parte del progetto, che non hanno fatto bene nel Milan quindi di cessioni si parla comunque non di top player, non dei big del Milan a meno che i big del Milan in questo momento non vadano a chiedere la cessione e questa cosa qua non mi stupirebbe ma spero veramente, incrocio le dita di no, quindi per quanto riguarda questa roba delle cessioni che molti sono entrati in allarme, non dovrebbe essere nulla di clamoroso arriviamo alla stronzata, la stronzata grandiosa che ha detto Scaroni senza mancare di rispetto a Paolo Maldini ma secondo me in questo momento il Milan forse ha meno bisogno di Paolo perché Maldini serviva quando tu avevi un Milan con Yongongli con quella situazione disastrosa uscivi fuori da quel periodo e ti serviva uno come Paolo Maldini per andare a convincere i giocatori a venire adesso non serve più perché il Milan ha vinto uno scudetto perché il Milan è arrivato in semifinale di Champions League adesso il Milan è una squadra appetibile minchia, la fila, la fila stanno facendo per venire al Milan guarda, per lottare per il quarto posto la fila, oh calma, uno alla volta, uno alla volta cioè ma seriamente tu mi dici che in una trattativa non c'è bisogno di uno come Paolo Maldini cioè seriamente, cioè tu il calcio siete due cose completamente diverse non puoi proprio parlare di calcio Scaroni non puoi dire una stronzata del genere cioè tu ti presenti a una trattativa con i tuoi dati del cavolo e dire noi siamo il Milan che ha vinto uno scudetto siamo arrivati in semifinale di Champions League e la gente dovrebbe inchinarsi a te ma l'hai visto cosa c'è in giro? l'hai visto cosa fanno in giro? che non parlando della Premier League che vabbè, anche se sei l'ultima in classifica si permettono di dare 5-6 milioni di stipendio come se fossero noccioline lascia perdere quello ma le altre squadre ti propongono di vincerla la Champions League cioè tu dici non abbiamo bisogno più di Paolo Maldini non c'è più questo bisogno perché ormai il Milan è ritornato appetibile a parte che il Milan dovrebbe essere una squadra appetibile per la storia ma i giocatori in questo momento della storia del Milan non se ne fottono un cazzo specialmente quando non vedono uno come Paolo Maldini al timone avere il Milan con Paolo Maldini al timone che va a fare trattative è una roba di... ma lo devo spiegare non lo devo spiegare, non te lo devo spiegare andate a Scaloni a spiegarglielo, fateglielo capire in qualche modo perché non credo abbia capito una cosa talmente banale non voglio spiegarlo ultima cosa eh ma Maldini voleva cacciare Pioli per prendere Pirlo eh ma Maldini voleva cacciare Pioli per prendere Conte eh ma Maldini voleva cacciare Pioli per prendere Conte manco una settimana e mezza fa Maldini stagione, voto 8 Maldini il difensore numero 1 di Pioli Maldini che ha sempre difeso Pioli ora esce fuori eh ma Maldini voleva sonerare Pioli dopo che l'ha sempre difeso l'ha messo su quella panchina ha dato 8 alla stagione e secondo voi Pioli sarebbe stato esonerato da Maldini che è? detto tra noi ma proprio tra noi è una roba mia personale non di Maldini aveva tutti i diritti tutti i diritti perché quello che voi chiamate mercato bocciato di Maldini a parte De Chetelare e Orighi che sono gli unici due veramente toppe di Maldini in questo calciomercato gli altri non c'è stata possibilità quindi avrebbe avuto anche la roba di dire tu non hai saputo valorizzare il mio mercato e quindi ti mando via e prendo un allenatore che magari posso trovarmi meglio ma è una roba di fantascienza è una roba che non esiste Maldini ha dato 8 alla stagione mi spiegate come fa uno che dà 8 voto 8 alla stagione poi dopo 3 settimane andare a cacciare l'allenatore capite che follia magari ci sarà stato il pensiero di Maldini di dire Pirlo è un mio amico è uno che secondo me vede bene il calcio e tutto quanto potrebbe fare bene come allenatore del Milan ma magari ce l'aveva in mente ma da qui a dire che Maldini è stato cacciato perché voleva mandare via Pioli cioè vi stanno facendo un lavaggio del cervello per farvi passare Maldini veramente come il cattivo di turno quando alla fine è chiaro è tutto chiaro questi qua americani Maldini non lo volevano questi volevano venire qua vogliono fare il loro business americano con gli algoritmi con i film di Brad Pitt e le puttanate loro non hanno potuto farlo il primo anno appena hanno avuto lo che sono e l'hanno fatto e adesso lo faranno perché se fosse una società normale mandi via Maldini e ne prendi un altro io leggevo i giornali che parlavano di Tare leggevo i giornali che addirittura parlavano di Giuntoli e no non gli serve un direttore sportivo vero a loro serve l'algoritmo per poi avere magari Furlani che va a fare la trattativa Pioli che dice sì magari questo mi piace non mi piace ma è questo che loro vogliono fare vogliono rivoluzionare il calcio cioè i geni abbiamo preso i geni in Milan i geni del calcio cioè il calcio esiste da centinaia di anni arrivano loro lo devono rivoluzionare lo rivoluzioneranno vediamo vediamo io aspetto con ansia almeno il primo colpo di mercato per poter giudicare perché se no non posso giudicare cosa devo giudicare in questo momento vi cagherei in testa ma aspettiamo il mercato vediamo che cosa accade vediamo se riescono a sorprenderci con un buon mercato perché alla fine poi ripeto quello che conta per tutti noi tifosi del Mina per quanto la mancanza di rispetto che hanno avuto per Maldini non verrà mai cancellata e questa sarà una macchia che voi avrete sempre anche se vincete la Champions League comunque questa macchia di come avete trattato Maldini non ve la toglierà nessuno io non dirò mai amo Jerry Cardinale mai sarò contento per il Milan ma per me tu non basta hai chiuso quello che avete fatto non si fa quindi speriamo almeno che non dobbiamo anche prendere la beffa che oltre a aver visto questo scempio in questi giorni dobbiamo anche vedere magari un Milan che si ridimensiona un Milan che non lotta manco più per lo scudetto vediamo 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 nei prossimi giorni sempre forza Mila lasciate un like iscrivetevi al canale è bella grazie a tutti